amici e amiche buongiorno siamo qui con un gadget che molti mi avete richiesto che serve a collegare il nostro smartphone android via wireless ad android auto vicino a lui il mio fedele a wireless che io uso da mesi per collegare il mio smartphone android alla mia auto vedete qui abbiamo la nuova interfaccia coolwalk di google e qui nel nel display della mia auto le copertine spotify visibili questo gadget che vedete qui vi metterò in descrizione il link d'acquisto manda ufficialmente in pensione il mio aa wireless ciao caro addio da oggi in poi uso questo uso questo perché è una bomba l'ho appena inserito nel nel mio smartphone nell'auto si è collegato velocemente da questo momento in poi io tutte le volte che ho acceso l'auto sono sceso risalito lui come un fulmine ha ricollegato il mio smartphone al al sistema multimediale non è mai caduto il segnale non è mai caduta una chiamata nonostante io lo tocchi o lo pieghi perché molte volte sapete che questi dispositivi sono molto delicati nel senso che se li spostate cade il segnale qui niente vedete ha un cavo molto corto questo è un difetto vedete sta un po sta un po in alto io lo incastro così poi vedete alla fine è anche carino lo incastro così sto a posto forse un cavo più lungo avrebbe permesso di alloggiarlo meglio nella vostra auto forse è l'unico difetto che può avere questo sistema non ha nessuna applicazione e quindi non ha neanche gli aggiornamenti futuri quindi magari un android 14 se ci dovesse essere qualche problema teoricamente potrebbe potrebbe esserci un problema ma io non credo diciamo che assomiglia un po al motorola mma1 è veramente un prodotto eccezionale appena inserito tutto funzionante tutto perfetto mai caduta la linea mai avuto un problema quindi ma pensione il mio a wireless e utilizzerò questo è carino è solido e qui è leggermente satinato gommato non è neanche brutto non si dovrebbe rigare qui c'è una lucina e basta non è niente una porte non ha niente di niente non scalda è quasi incredibile per 70 euro vi comprate su amazon italia un accessorio perfetto che collegherà il vostro smartphone senza fili all'auto appena salite senza senza fallire un colpo è veramente pazzesco chiaramente questi prodotti non hanno niente a che vedere con i box android che trovate recensiti nel mio canale e che quelli fanno altre cose si installano la pk si vede netflix si vede youtube questo serve solo a collegare lo smartphone android al vostro android auto ma lo fa sempre bene lo fa velocemente e quindi da oggi in poi nella mia auto terrò questo non so se venderò a wireless magari ancora lo tengo per fare dei test ma io nella mia auto terrò questo e potendolo voi comprare su amazon lo potete testare tranquillamente un mese e vedrete che alla fine del mese lo terrete non farete nessun nessun reso secondo me quindi oggi video breve ma direi anche un video entusiasta perché ho trovato un prodotto che mi ha stupito che mi piace e che vi consiglio ciao a tutti ho tanti gadget in arrivo sempre inerenti il mondo android auto e quindi ci vedremo presto con dei nuovi con dei nuovi video